Ciao a tutti, sono Alex, il biondo, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vedremo un passatempo, un armi stress, che sta spopolando dappertutto, su YouTube, su Google, su Facebook, dappertutto. Allora, questo si chiama Finger Spinner, e è questo, guardate, è normale. Voi dite, ma Alex, ma che cavolo è sta roba, questo giocattolo. Allora, praticamente, come vi ho detto, è un antistress, e è molto divertente. Allora, cosa fa questo? Questo è basso, aggira solamente. Però, con questo si possono fare molti trick. Ora, io ce l'ho giallo, ma ce ne stanno tantissimi, anche con due cuscinetti. È veramente fantastico. L'ho scoperto su YouTube, ho visto un video. Mi sembra che è dall'anno scorso che ci sta, però quest'anno sta veramente spopolando. Ora ho imparato un giochetto, guardate. Vabbè, sto imparando perché l'ho avuto ieri. Allora, qui c'era un altro che mi è arrivato appena, dopo vedremo. Non mi ricordo che colore mi ha fatto una sorpresa mio padre, dopo vediamo. Ne ho già con questo quattro. Ne ho giallo, rosso, verde e ora non lo so questo di che colore. Spero che non è giallo, rosso o verde. Sino ce l'ho a doppione. Comunque è fantastico, veramente. Ci gioco molto tempo. Pensavo che era falso, era delle cose dei cinesi. Però, ho visto, l'ho comprato dai cinesi ed è fantastico. Ora, guardate che faccio, se ci riesco. Con un dito. Eppure è resistente perché mi è caduto tantissime volte e non si è rotto. Ma ora apriamo questo. Guardate, una scatoletta. Vediamo se ci riesco ad aprire. Ah, è blu. Bello. Allora, quindi ho i colori dei mates. Chi non le conosce, i mates sono dei youtuber famosi. Allora, vediamolo. Sono uguali? Eh, vabbè, questo c'è nuovo. Vediamo se... Molto bello, guardate. Comunque, vi consiglio di comprarlo perché è veramente... Sembra che non è niente. Però, è bellissimo. Ieri mio padre, per la furia di fare tante volte così, si è fatto male il dito. Quindi, facciamo così. Ora. Comunque, con questo si possono fare molte cose. Ad esempio... Eh, io non le so fare queste cose. Guardate. Non so fare niente. So fare solo questo e... Tenerlo così. E niente, ragazzi. Questo è un breve video. È durato veramente poco. Guardate. Aspettate. Se ci riesco. Comunque, è durato veramente poco questo video per farvi vedere che... Questo meraviglioso giocattolo, impronunciabile, il nome... Eh, ne ho... Ora ne ho due. E comunque, va bene. E niente. Ok, ragazzi. Per questo video può finire qua. Vi ricordo. Pulisciate in su. E andate a comprarlo perché è veramente... È bellissimo. Non ho parole. Non ho parole per descriverlo. Ok, devo andare alla prossima volta con Alex. Il mio do. Ciao!